Buongiorno a tutti, siamo a casa SIAE con Noura Labash, che è la responsabile della Fondazione Italia Music Lab, un hub voluto da SIAE per incentivare e aiutare i giovani che vogliono andare a fare musica all'estero. Ciao a tutti, ciao Paola. Noura, hai presentato qualche giorno fa questo report con tutti i dati della musica italiana all'estero. Ce ne parli e ci dici i dati più salienti e più curiosi che ne sono usciti? Sì, come spiegavi, Italia Music Lab è questo nuovo hub che ha creato SIAE per il supporto dei giovani autori, dei giovani music creator, sia in Italia che all'estero. In particolare sull'estero c'è un ufficio apposito che si chiama Italia Music Export, che esiste dal 2017, il primo ufficio di questo tipo in Italia, che appunto sono anni che sostiene i nostri autori, i nostri artisti in generale nello sviluppo della loro carriera fuori dai confini italiani. Come li sostiene? Con supporto economico, consulenze strategiche, nuove opportunità. insomma cerchiamo ormai da 5-6 anni di aprire un po' le vie della musica italiana all'estero. Con questo report abbiamo voluto fare un primo bilancio di com'è andata e pubblicare per la prima volta qualche dato, qualche classifica interessante su quali sono gli artisti e le canzoni italiane più ascoltate all'estero. E l'abbiamo fatto dopo un po' di anni perché essendo il primo report di questo tipo in Italia volevamo avere anche una visione d'insieme che andasse anche oltre il periodo Covid e prendesse quindi una fotografia della musica italiana degli ultimi 5-6 anni che appunto ha cambiato faccia sia in Italia sia poi nel suo sviluppo fuori dai nostri confini. E in che modo ha cambiato faccia? Qual è la prima cosa che hai notato con questi dati? Allora, il primo grande cambiamento che c'è stato è stato un ricambio generazionale. Fino a pochi anni fa, se si parlava con degli addetti ai lavori di paesi stranieri o anche solo fan e si chiedeva qual è l'artista che conosci, italiano, che ami di più, ti facevano i classici nomi dei grandi successi degli anni 70-80, qualcuno anche 90, quindi non c'è bisogno nemmeno di nominarli, comunque Laura Pausini, Pavarotti, Ramazzotti, Gianna Nannini, i ricchi e poveri, insomma le nostre pietre miliari. Da qualche anno a questa parte invece c'è stato un grande ricambio generazionale che è stato poi il riflesso del ricambio generazionale che c'è stato anche in Italia perché da quando specialmente si è iniziato a calcolare lo streaming nelle classifiche di vendita anche le stesse classifiche dei dischi più venduti sono cambiate completamente quindi c'è una nuova generazione di artisti prevalentemente rap e trap ma non solo che oltre a dominare il mercato nostrano ha anche delle buone chance di essere ascoltato all'estero quindi queste classifiche qui testimoniano un po' questo passaggio di testimone scusate il gioco di parola e direi che è uno delle conseguenze più evidenti che si possono riscontrare leggendo questo report. Io ho visto, naturalmente ho scorso il report, ho visto che il nome dei Maneskin ovviamente vince su tutto quindi insomma immagino che l'effetto Maneskin sia stato anche fondamentale per questo cambio generazionale Sì, nel report sono presenti diverse classifiche che appunto sono le prime di questo genere perché non abbiamo mai avuto a disposizione delle classifiche sugli artisti più ascoltati nel mondo le canzoni più ascoltate nel mondo, in Europa, online e appunto questa pubblicazione di CIA, Italia Music Export, vuole un po' porre delle basi sulle quali anche misurare il progresso dei prossimi anni e i Maneskin, come era abbastanza prevedibile che fosse, hanno i primi due posti delle canzoni più ascoltate in Europa online più ascoltate al mondo, artisti under 35 più ascoltati al mondo insomma in tutte le classifiche al primo posto ci sono i Maneskin e ovviamente questo fatto qui, questo esploat dei Maneskin ha portato a cascata tantissimi elementi positivi sia sulle revenues, ovviamente di diritto d'autore ma anche in modi un po' più sottili c'è, grazie a loro, un'attenzione molto maggiore nei confronti della nostra scena musicale adesso se si va all'estero ovunque adesso oltre Ramazzotti e Pavarotti conoscono anche i Maneskin e la gente è veramente molto curiosa di sapere che cosa c'è oltre i Maneskin e quindi questo senza dubbio sta dando sta iniziando a dare proprio adesso un'apertura verso nuovi orizzonti Prima parlavamo addirittura mi raccontavi che c'è questo gruppo francese che in realtà ha scelto di cantare in italiano che mi sembra una cosa particolarissima perché in genere è il contrario sono gli italiani che cambiano lingua Sì, in Francia in particolare che è se non sbaglio il secondo paese al mondo dove siamo più ascoltati il primo è la Germania c'è un'italofilia crescente è iniziata già da qualche anno anche se diciamo storicamente la Francia è stata sempre un paese che ha accolto molto volentieri il nostro repertorio basti pensare al successo che hanno da anni Paolo Conte o Riccardo Cocciante però anche da parte delle nuove generazioni adesso c'è un amore per l'Italia veramente strano per noi ci sono più band in Francia e in Belgio che cantano esclusivamente in italiano anche in Germania e come si spiega proprio questa tendenza cioè la Germania e la Francia mi dicevi in particolare secondo te perché questi due paesi per una questione di seconda generazione? Sì, nel caso della Francia penso sia proprio una questione di prossimità culturale come d'altronde con la Spagna che è un altro dei paesi che è nella top 10 nel caso della Germania anche ovviamente delle seconde generazioni è tutta diciamo i figli e i nipoti degli emigrati che comunque rivedono nella musica italiana un ritorno alle loro origini quindi senza dubbio c'è quello e poi ovviamente ci sono anche delle ragioni più tecniche per cui anche come società di collecting sono dei paesi estremamente efficienti al pari dell'Italia quindi dove si riesce anche a raccogliere tanto diritto d'autore Ecco, ma la fondazione Italia Music Lab in che modo proprio concretamente aiuta autori, artisti nel loro lancio nel mercato estero? Allora, SIAE tramite Italia Music Export aiuta gli autori a suonare all'estero essere conosciuti e impostare una strategia in tanti modi diversi in primis con un supporto economico noi abbiamo tantissimi strumenti tantissimi bandi che sono attivi due volte l'anno e ai quali è molto semplice fare domanda che permettono di ricevere finanziamenti per concerti e tour all'estero per suonare ai festival per lanciare una campagna promozionale all'estero per un EP, un singolo, un disco, un tour, un video qualsiasi cosa anche finanziamenti per fare dei featuring con artisti stranieri quindi rimborsare le spese di viaggio di affitto dello studio e tutto il resto quindi quello è una buona base che non deve essere sottostimata perché da quando è aperto Italia Music Export SIAE ha investito un milione e mezzo solo in questo quindi solo nel sostegno della musica italiana all'estero quindi i numeri che vediamo oggi sono tali anche grazie al sostegno di SIAE e poi un'altra delle attività molto importanti che SIAE offre ai propri autori ma non solo a tutti è quella di sostegno sulla strategia per cui se un artista se un'etichetta, un editore vuole iniziare a muovere i primi passi sull'estero oppure li ha già mossi ma ha bisogno di un aiuto sul prossimo step può venire da noi e ottenere delle consulenze gratuite in questo senso e in ultimo facciamo formazione per cui periodicamente pubblichiamo video tutorial oppure facciamo anche lezioni dal vivo che spiegano un po' come impostare una strategia di export per un artista italiano a seconda ovviamente del grado di avanzamento di carriera a seconda del paese in cui si focalizza all'estero in base al budget ovviamente e a tanti altri al genere musicale perché ovviamente esportare non so una violinista che suona musica classica è completamente diverso che esportare un rapper per esempio tra i vostri famosi c'è anche qualcuno a Sanremo mi pare tra le persone che si sono rivolte a voi per questo sì 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 allora a Sanremo quest'anno in gara ci sono due artisti che sono stati diciamo beneficiari del nostro sostegno tra i big c'è Madame per la quale abbiamo offerto se non sbaglio sostegno per le spese promozionali all'estero perché ha fatto un bellissimo featuring con un artista francese di recente e tra gli emergenti ci sono i colla zio che invece hanno ricevuto sostegno per la produzione discografica ecco vogliamo dire anche il sito su cui possono trovare tutte le informazioni sì il report si trova su italiamusicexport.com ok ho visto ci sono anche dei nomi un po' curiosi che magari ecco i Maneskin li conoscono tutti altri no tra i primi dieci risultano anche dei nomi che per me sono sconosciuti mi sono stupita di vedere che invece sono tra i più ascoltati come Pasquale Di Fonzo Pasquale Di Fonzo sì ci sono dei nomi effettivamente sconosciuti al grande pubblico alcuni magari erano conosciuti negli anni 90 primi 2000 come gli FL 65 che tutt'oggi sono tra gli artisti più ascoltati all'estero quindi l'Eurodance di quegli anni ancora va molto forte in generale la musica elettronica italiana nonostante non venga mai menzionata è uno dei nostri grandi cavalli di battaglia e di esportazione e poi sì c'è Pasquale Di Fonzo che è se non sbaglio l'ottavo artista italiano più ascoltato al mondo che è diventato tale grazie a TikTok perché un suo pezzo che si intitola Fanbit è diventato virale sulla piattaforma e quindi diciamo è sottococciante sotto Lucio Dalla c'è Pasquale Di Fonzo ovviamente lì parlano i numeri quindi e in che modo effettivamente hai notato quale range diciamo di anni hai notato questo cambio che i social hanno ovviamente impresso agli ascolti degli italiani all'estero è stato senza dubbio un cambiamento degli ultimi anni anche legato al covid immagino anche legato al covid anche se le piattaforme di streaming esistono ormai da tantissimi anni l'utilizzo delle piattaforme di streaming aumenta anno dopo anno il tempo in cui l'utente utilizza la piattaforma aumenta ogni anno e non sono solo piattaforme di streaming ma sono anche social sui quali spesso si scopre musica come per esempio TikTok ma anche Instagram e anche Youtube che non è né un social stricto senso né una piattaforma di streaming una mia di mezzo e sono senza dubbio dei canali attraverso i quali i nostri artisti possono essere ascoltati in tutto il mondo e apparire in queste classifiche ma quali sono se qualcuno volesse diciamo rivolgersi a voi compilare il bando e presentare insomma il proprio progetto quali sono i criteri in base ai quali vengono scelti gli artisti da spingere Allora i nostri bandi servono appunto per selezionare degli artisti che riceveranno poi un supporto economico da SIAE attraverso Italia Music Export e i criteri sono solitamente legati al progetto di export in sé quindi non si valuta l'artista dal punto di vista artistico non si dice sì questo artista fa musica di qualità e questo no perché non ci ergiamo ovviamente a giudici ma non siamo nemmeno noi a dare questi giudizi abbiamo sempre delle giurie esterne che turnano che cambiano sempre per mantenere diciamo imparzialità quello che si giudica quindi è il progetto di export quindi quanto è solida questa strategia perché un artista decide di investire in un paese invece che in un altro chi sono i partner locali che sceglie in quel paese quanto sono validi se la spesa è commisurata ai risultati che si aspettano quindi si giudica più che altro la strategia e quanto può funzionare ho capito e se dovessi dire più o meno quanti possono essere le persone che hanno partecipato ai vostri bandi in questi anni calcolando sia l'Italia Music Export che insomma la fondazione che poi ne è nata allora quanti hanno partecipato non so dirti ma quanti hanno vinto sono tra i 500 e i 600 dal 2017 18 ad oggi quindi insomma tantissimi artisti sì ma ci sono dei limiti di età? no tranne che per uno di questi bandi che però riguarda l'Italia non riguarda l'estero che si chiama Facce Nuove serve appunto per supportare la realizzazione di nuovo repertorio per gli under 35 quindi quello è l'unico strumento in cui c'è un limite d'età sul resto no Facce Nuove invece diciamo l'Italia Music Export in generale non ci sono limiti anche artisti italiani già noti che possono essere assolutamente noi lavoriamo sia con artisti emergenti che con artisti noti sia con artisti noti all'estero che artisti noti in Italia ma sconosciuti all'estero sia con realtà major che indipendenti insomma lavoriamo con tutti anche perché Nur Alabash quest'anno è stata anche la direttrice artistica della Milano Music Week quindi sicuramente diciamo quelli sono contesti in cui tu hai modo anche di avere tanti contatti con i festival stranieri immagino e di poter aiutare o sponsorizzare le persone che si rivolgono a voi per creare delle joint venture non so sì 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 oltre Milano Music Week comunque con Italia Music Export partecipiamo tutti i mesi a festival B2B del music business internazionale per cui ogni anno partecipiamo dalle 12 alle 20 manifestazioni in tutto il mondo dalla Corea alla Cina agli Stati Uniti al Canada all'Africa e quindi tutti questi viaggi di lavoro che facciamo a volte accompagniamo degli artisti a volte degli addetti ai lavori a volte no andiamo solo noi in avanti scoperta tutte le volte però stringiamo delle relazioni veramente fondamentali che poi mettiamo a servizio degli autori e dei professionisti che li seguono non so se sto facendo una domanda stupida ma quando i nostri arrivano sbarcano in qualche paese estero e fanno furore le etichette discografiche come si comportano cioè vorrebbero accaparrarsene oppure rimangono gestiti dall'Italia come funziona? beh direi che dipende veramente da caso a caso non c'è non c'è un pattern ci sono artisti che diventano molto celebri online e che vengono intercettati poi da realtà straniere penso per esempio ai Meduza duo house edm italiano nominato ai Grammy qualche anno fa famoso in tutto il mondo che sono stati subito intercettati da realtà inglesi e tedesche quindi non sono rimasti in Italia e poi c'è il caso Mane Skin che invece è l'esatto opposto perché sono rimasti sia come management che come etichetta saldamente ancorati all'Italia e questo ovviamente è qualcosa che ci rende molto orgogliosi perché ha rilanciato anche un po' l'immagine non solo della scena musicale italiana ma anche dell'industria musicale italiana all'estero questo è il contenuto dell'intervista che ho letto sul report giusto? sì nel report abbiamo fatto un approfondimento proprio su Mane Skin con un'intervista ad Andrea Rosi CEO di Sony Music Italy nella quale abbiamo parlato non tanto di come i Mane Skin sono diventati un fenomeno internazionale ma di tutto quello che è successo dopo il boom e quindi come la Sony Italia è riuscita a gestire proprio a livello operativo le attività in tutto il mondo che tipo di cambiamenti hanno operato all'interno della loro struttura e come sono riusciti a tenere ben saldo il timone in Italia ed è veramente molto interessante anche dal punto di vista business industry vedo che tu gli hai chiesto anche se hanno avuto modo di fare dei test su altri artisti Sony all'estero e ha citato Rocko Hunt anche lui quindi è Rocko Hunt è nelle classifiche penso degli under 35 più ascoltati al mondo ed è sicuramente uno degli artisti italiani che più sta lavorando all'estero nello specifico in Spagna e in Latino America ed è senza dubbio uno dei nostri artisti sui quali insomma teniamo gli occhi puntati perché sta andando molto bene ma insomma ce ne sono altri quindi se tu dovessi dire diciamo in conclusione o quasi di questo incontro dove sta andando la musica italiana e che cosa succederà nei prossimi anni secondo te? è un domandone da un milione di dollari accettiamo scommesse allora se guardiamo alla classifica degli under 35 più ascoltati al mondo quindi di quello che probabilmente sarà il prossimo futuro della musica italiana è una fotografia abbastanza chiara ossia che le sonorità cosiddette urban quindi rap trap R&B sono quelle che vanno per la maggiore ma ci sono anche tantissimi artisti italiani autori che sono in quella classifica in virtù di colonne sonore che hanno scritto oppure in virtù delle proprie canzoni cioè il secondo più ascoltato under 35 al mondo è ultimo e per lui non vale né il discorso del genere musicale né dell'esposizione come può essere l'Eurovision che hanno avuto i Mane Skin evidentemente sono le canzoni in sé a parlare quindi se vogliamo tracciare un pattern in generale direi che seguiamo quello che è il trend musicale globale che in questo momento è urban latin però ci sono sempre delle eccezioni delle cose che non ci si spiega ma diventano comunque estremamente popolari e l'altro trend come dicevo prima è quello della musica elettronica che non è assolutamente da sottovalutare anche perché spesso non ha testo e quindi di sé è molto più facile da esportare certo un'altra cosa divertente che avevo notato nel report è il fatto che si stia diffondendo cioè che siano molto ascoltati anche gli autori che realizzano colonne sonore delle serie televisive sì 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 esatto sempre nella classifica degli anni 35 c'è Yakamoto Kozuka ovvero Giacomo Mazzucato autore di casa Sugar che è nella classifica proprio in virtù delle colonne sonore che ha composto per molte serie tv Netflix che sono andate poi distribuite in tutto il mondo e che quindi hanno generato diritti d'autore quindi sicuramente c'è anche quella componente lì sulle canzoni o sugli artisti più ascoltati al mondo invece c'è un peso molto più importante degli evergreen quindi c'è anche Modugno c'è Conte Zucchero Ramazzotti Cocciante Lucio Dalla Tozzi quelli rimangono ovviamente dei capisaldi sì sì della nostra musica anche se appunto le prime due posizioni sono Maneskin e F65 quindi il nuovo avanza ma dietro c'è una coda di tradizione importantissima che è ancora molto rilevante allora grazie Nur grazie per tutto quello che fate il prossimo anno ci racconterai i grandi successi della Fondazione Italia Music Club 2023 volentieri grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti